Sulla PNRR la Premier Giorgia Meloni si dice assolutamente ottimista che l'Italia centrerà i propri obiettivi, soprattutto dice se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera che nella miglior tradizione dei tafazzi d'Italia viene strumentalizzata per attaccare il governo. Noi siamo impegnati per rispondere alle ultime richieste di chiarimenti da parte della Commissione, ricordo che lavoriamo su un piano scritto da altri. In un'intervista al Corriere della Sera la Premier prosegue, senza polemica non posso fare a meno di notare che se il lavoro certosino che stiamo facendo adesso senza alcuna tensione con la Commissione fosse stato fatto a monte quando i progetti sono stati presentati avremmo potuto risparmiare molto tempo, poco male siamo comunque vicinissimi all'obiettivo e stiamo lavorando senza sosta alla rimodulazione del PNR per spendere tutte le risorse privilegiando progetti strategici. Meloni spiega la decisione di presentare una sospensione per il MES, ritengo contrario all'interesse nazionale accelerare la ratifica del trattato di riforma del MES mentre il governo è impegnato nel negoziato decisivo per la modifica del patto di stabilità e il completamento dell'unione bancaria.